La pelle è un organo e di conseguenza è una struttura costituita da più tessuti e quindi beneficia sicuramente di trattamenti che in maniera differente possano agire sui vari elementi proprio delle sue componenti, quindi del fatto che in realtà sia rappresentato da più strutture. Oggi sicuramente il trend è quello della medicina rigenerativa, cioè sfruttare quelle capacità che il nostro organismo ha dall'interno di produrre, di migliorare la propria appunto costituzione. Sicuramente la combinazione che oggi e per il futuro probabilmente darà più risultati è quella dello sfruttare proprio gli ultrasuoni microfocalizzati che permettono di riscaldare in maniera precisa e profonda appunto le strutture nelle quali abbiamo la possibilità di creare nuovo collagene e quindi dare maggior compattezza e maggior tono ai tessuti e tendenzialmente l'infiltrazione di nuove molecole come per esempio l'idrossiapatite di calcio che in realtà hanno proprio la capacità di bioristrutturare a questo punto l'organo pelle. Bioristrutturare vuol dire a questo punto avere ancora una volta uno stimolo che può creare maggior collagene, la possibilità di migliorare le piccole rughe superficiali e tendenzialmente quello anche di donare maggior elasticità giocando proprio in maniera a tutto spessore nei confronti della pelle.